E tu saresti? Michael Camera E cos'è che c'hai cantato? Devo cantare ancora Scream Quali sono i tuoi hobby Michael? Calcio E quando hai scoperto di avere come dire una dote particolare per la musica? Due anni fa E in che frangente? Chitarra Ok Grazie Michael E arrivederci a voi in studio E in fronte is so easy but good Just as you are To find your king for A bear and a bear And I'm telling anyone It's just so hard Oh my god Woo! Ok Grazie. 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 Grazie.